Un albero che cade può ammazzare la vita della persona e su questi non lo consento, quindi io oggi vado a decidere, si abbatte tutti gli alberi che sono stati decisi abbatte, poi saranno i verdi, i gialli, i rossi, non me ne frega nulla perché io devo garantire la sicurezza, peraltro voi sapete che sta sperando anche il passaggio in quelle zone là, per i marciapiedi che sono rialzati, abbiamo denunce da parte di coloro i quali sono stati sbalzati, donne che sono cadute, ci hanno fatto ricorso e citazioni varie, quindi non è assolutamente possibile, quindi siccome sono passati più di cent'anni, il mio corretti arriva a cent'anni, gli alberi sono arrivati, pazienza, perché cadono anche da soli, al di là del vento cadono da soli, poi se cade è responsabile del sindaco penalmente, e invece se non succede, ah uno tolge, no, noi faremo l'abbattiva in degli alberi e metteremo alberi al posto di quelli che ci sono, questo mi pare evidente, perché se stanno agli alberi, tu sei contro il verde, ma noi metteremo altri alberi, come hanno fatto cent'anni fa, hanno messo gli alberi, metteremo altri alberi, questi sono morti, cioè non vanno più avanti.